Mr. Cappelletto, Volei Treviso passa ai quarti di finale, vinto il girone della seconda fase di queste finali giovani lì, Cray Under 17 maschili, insomma tutto secondo le vostre aspettative? Beh, sì, essendo campioni carichi, non per vantarsi, la nostra squadra viene qua con qualcosa da difendere, quindi è un anno che aspettiamo questa situazione per poterci verificare ulteriormente. Il nucleo è quello che era l'anno scorso a Pavia, è stato secondo me rinforzato, è un gruppo di ragazzi che lavorano con impegno, dedizione, io credo raramente aver avuto un gruppo così completo, soprattutto per quanto riguarda l'allenamento, fatto sì siamo riusciti a crescere ulteriormente, poi quando si arriva qui è un centrifugato di emozioni, di tensioni che bisogna riuscire a stemperare. Per adesso ancora non ci siamo riusciti, io spero da domani riuscire a giocare una pallavolo un po' più efficace soprattutto. Che stagione è stata quella che vi ha portato a queste finali? Beh, è stata una stagione diciamo buona, abbiamo vinto un titolo regionale, non abbiamo mai perso noi in Under 17, abbiamo guadagnato, abbiamo vinto una serie C, però lo sappiamo che l'obiettivo nostro è questo, dal lustro alla nostra società che ancora ci permette di lavorare nel migliore dei modi, abbiamo tutte le attrezzature, tutti gli impianti a disposizione, lo staff che è completo per poter lavorare nel migliore dei modi, quindi abbiamo l'obbligo di essere una delle squadre da esempio in Italia e per fortuna riusciamo a esserlo ancora, riuscire a dare molti giocatori al pallavolo italiano. Grazie.